Flop Giubileo? Andiamo a chiedere ai commercianti della zona del Vaticano che cosa ne pensano degli affari fatti. Ultimamente è aumentata molto, è stato molto confortante. Secondo me, anzi, si è lavorato addirittura di meno rispetto... Potresti addirittura dire perché si è lavorato di meno, tu l'hai avvertito in qualche modo? Secondo me la gente, la maggior parte erano pellegrini, quindi con un budget abbastanza limitato. Le gente ce ne sta tante, però noi abbiamo lavorato poco, perché fra il terramoto, fra questo e quell'altro ha la crisi che c'è. Sicuramente c'è stato un flusso maggiore di ospiti, questo vi posso dire con certezza perché siamo qui da molto tempo e abbiamo notato proprio delle diversità. Lei crede che possano influire su una diminuzione dei turisti i servizi offerti dal Comune di Roma o no? Ma questo non glielo so dire con certezza. Posso dire che effettivamente non è che sia il massimo, come sappiamo Roma, non è che purtroppo sia il massimo a livello di servizi comuni e via dicendo. Avete avuto più o meno turisti e pellegrini nella vostra attività commerciale? All'inizio c'è, però questa settimana niente. Prima c'era. Il dicembre è cominciato bene, però dopo non c'è più. E qual è l'oggetto che vi vendete di più durante questo Giubileo della Misericordia? Vedo che sta mettendo a posto le medagliette. Sì, come l'hai visto, le medaglie, le rosare, anche le calamite del Giubileo.